signora M fra 50 minuti in scena nessun attore che io sappia ha mai osato confessare non dico in pubblico ma neppure a se stesso ciò che io sto per dire qui stasera con un certo disagio perché non è mai facile dire la verità e comunque ci vuole sempre una notevole dose di coraggio questa poi è una verità davvero scusa ...logisti e attori potessero incontrarsi e confrontarsi quella casa ora esiste poco lontano da qui e a quella casa una settimana fa siamo tornati tutti insieme per dire che è nostra e per discutere tra noi cosa fare di fronte a un governo che ci aveva messo con le spalle al muro tagliando i soldi del fondo unico dello spettacolo se noi ombre vi abbiamo annoiato si può presto rimediare voi soltanto dormivate e noi altri sognavate e se tenue era la trama come in un sogno appunto è vana oh no non vogliateci umiliare ci possiamo riprovare e quanto è vero che mi chiamo Puck a tutti buonanotte dico intanto finito è lo spettacolo e l'incanto ... ... ... ... ... ... ...